Il target principale sono gli operatori del settore, grossisti, importatori e ristoratori. Soprattutto per loro, affinché il Made in Abruzzo faccia il giro delle tavole mondiali, è stata pensata la borsa enogastro-turistica abruzzese, spin-off della fortunata Mediterranea, che si è tenuta per diversi anni in estate nel porto turistico Marina di Pescara. Basta cantarcela e suonarcela da soli, dice il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci, è ora di spostarsi lì dove si possono incontrare occasioni di affari e di export, a Milano, la capitale finanziaria italiana. Sarà il Palazzo della Camera di Commercio Meneghina il prossimo 5 luglio, ad ospitare una giornata interamente dedicata ai prodotti dell'enogastronomia abruzzese e alla promozione del territorio costiero e montano della nostra regione. In programma un B2B che faccia incontrare domande ed offerta del settore agroalimentare e turistico e poi una serata di gala con il format Farmer, dalla terra alla padella, una cena in cui sarà promosso l'abruzzo fatto di mare, di monti, di borghi, ma soprattutto di eccellenze agricole e culinarie. Stiamo provando a fare un salto di qualità. Il salto di qualità è quello di andare su quella che oggi è la più grande piazza, il più grande palcoscenico per l'internazionalizzazione, che è la città di Milano, sapete tutti che Milano in controtendenza con il livello nazionale ha un PIL che aumenta del 4% all'anno, per cui già questo ci fa capire che lì ci sono numeri importanti. Noi, devo dire, il settore promozione della Camera di Commercio ha deciso appunto di puntare su Milano, su questo grande palcoscenico che riteniamo oggi essere uno degli elementi importanti soprattutto per l'affermazione delle nostre aziende in Italia, ma soprattutto all'estero.